e le squadre rinate grazie al cambio in panchina da un lato la carrarese di Antonio Calabro che ha esordito con il pareggio contro la Vispesaro ma ha stravinto lo scontro diretto contro la seconda forza del campionato la Torres proprio per 5 a 1 qui allo stadio dei Marmi dall'altra parte un olbia nuovo con un nuovo allenatore in panchina un allenatore di esperienza che ha subito trasmesso a società ai giocatori la sua serietà e il suo modo di fare carrarese olbia parte subito con il botto minuto 4 occasione per la squadra di Calabro conclusione di panico mette subito il guantoni Rinaldi che risponde così al classe 97 della carrarese è una carrarese che parte subito forte nel primo quarto d'ora costruisce molto altra conclusione questa volta sui piedi di Belloni che calcia altissimo al minuto 35 torna a riaffacciarsi dalle parti di Rinaldi nella squadra di Calabro con questa conclusione tentata da Cicconi uno dei migliori in campo in questa prima mezz'ora di partita ancora carrarese ancora panico para Rinaldi la palla rimane buona per Capello che calcia sulla traversa il gol del vantaggio rimandato per la carrarese che continua a insistere continua a costruire sulla corsia di destra di Grassini questa la sua conclusione a minuto 42 parata spettacolare di Filippo Rinaldi che mette in corner e lascia un'altra pezza importante per tenere in vita l'olbia minuto 43 azione questa volta del capitano della latta e chiusura di Rinaldi pochi secondi più tardi calcio di punizione dal limite fondamentale per la carrarese che sbloccherà la partita proprio grazie a questo calcio di punizione conquistato da panico fallo commesso da Bellodi Belloni invece tocca all'indietro per Schiavi che trova la deviazione inganna Rinaldi e sblocca la partita al minuto 46 in pieno recupero la carrarese è avanti di uno sull'olbia di Gaburro dopo un primo tempo dominato e lungo e largo come il gol del vantaggio così e dunque tutti a riposo sul punteggio di 1 a 0 nella ripresa la musica non cambia ad attaccare forte sempre la squadra di Calabro occasione subito dopo appena un minuto e quindici dall'inizio della ripresa colpo di testa di panico e da due passi Yannes spreca e calcia sul fondo potenziale 2 a 0 per la carrarese occasione non sfruttata dalla squadra di Calabro che poco dopo torna in avanti questa volta l'occasione sul destro di panico che calcia così e calcia fuori secondo tempo con poco emozioni minuto 85 questo colpo di testa all'indietro rischiosissimo di Grassini deve uscire Bleve Olbia che costruisce veramente poco in questo match altra occasione per la carrarese minuto 90 deve mettergli deve mettergli pugni qui Bleve cala il sipario dunque allo stadio dei marmi la carrarese vince la sua seconda gara consecutiva dopo la vittoria contro la torres per Calabro questo è secondo successo in tre partite da nuovo allenatore della carrarese grazie a tutti grazie a tutti